Sì, purtroppo la sconfitta è maturata in modo un paro campulesco perché abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato e poi si sa, ogni volta su questo campo sono gli episodi, perché un fallo laterale, una punizione, una palla mezza-mezza può essere sempre una chiara occasione da gol, che decide poi la partita come è stato, perché abbiamo sbagliato una palla lì sulla destra e niente, ci hanno fatto gol, come noi abbiamo sfruttato una palla persa loro, abbiamo fatto una ripartenza e abbiamo fatto il 2-1. Purtroppo si sa che su questi campi così piccoli, stretti, gli episodi decidono la partita e oggi così è stato. Per la classifica è una sconfitta, secondo me, abbastanza inaspettata e un po' pesante perché tante volte le altre scuole su questi campi vengono a vincere e tante volte manca quella cattiveria per andare a chiudere la partita e poi sul risultato finale va a pesare. Salutiamo la CMM di cui fai parte? La CMM, noi siamo sempre lì sotto ai spalti, pure dopo il 3-2, all'ultimo minuto, abbiamo continuato a cantare perché noi ci crediamo, perché crediamo in questa squadra, crediamo nei ragazzi, nella società e penso che alla fine ce la potremmo fare, però come ho detto prima, dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo avere più convinzione, più voglia di vincere perché lo possiamo fare, questo va bene. Appalizzato!